Salve a tutti, io sono Giovanni Martella e vi parlo da questo luogo speciale che è il villaggio di Bana in Burkina Faso, Africa dell'Ovest. In questo luogo in cui ho avuto la fortuna di essere accolto per la prima volta nel 2016 viene custodita e tramandata una cultura antichissima e preziosissima che è la cultura musicale tradizionale dell'etnia San Blà. Il Burkina è un paese che sta avanzando, le città si ingrandiscono e in questo processo molto spesso la cultura tradizionale dei villaggi che è un vero e proprio patrimonio dell'umanità rischia di svanire, rischia di perdersi. La mia associazione Circular Music si occupa di musica e cultura del West Africa, con particolare attenzione per la musica del Mali e del Burkina Faso. Nel tempo qui nel villaggio abbiamo stretto delle relazioni preziosissime con le famiglie dei musicisti che sono qui e abbiamo deciso insieme di lanciarci in questa avventura un po' folle che è la costruzione di un centro culturale qui nel villaggio di Bana. Vogliamo che questo centro diventi un luogo di accoglienza sia per gli anziani maestri che hanno ancora tantissimo da donare, da insegnare ai più giovani, sia per i più giovani che sono molto spesso dei talenti impressionanti e che molto spesso non hanno i mezzi per condividere il loro talento con il mondo. Vogliamo inoltre che sia un centro di accoglienza, un luogo di accoglienza per gli altri innumerevoli artisti che sono presenti qui in Burkina e anche per coloro che dall'estero vorranno venire qui a scoprire la musica ma soprattutto a fare l'esperienza magica speciale della vita nel villaggio africano. Un'esperienza che il villaggio di Bana può regalare a tutti. Per farlo vogliamo sentire il tuo sostegno. Bana è ancora un luogo un po' isolato dal mondo, invece noi vogliamo che diventi il centro di una community dalla quale la bellezza della cultura della musica Samla inizia pian piano a fluire. Siamo convinti come associazione che la bellezza del mondo sia da ricercare nella sua diversità. Proviamo solo per un istante a pensare a un mondo tutto uguale dove la natura stessa del viaggio, della scoperta perderebbe di valore. Invece pensiamo allo scrigno meraviglioso che è il mondo oggi grazie proprio a questa sua diversità, a questa bellezza infinita che è diversa in ogni luogo del mondo. Ecco noi vogliamo che questo centro diventi il cuore pulsante dal quale la bellezza che è custodita in questo villaggio inizia a fluire verso una community digitale più ampia in grado di accogliere questa bellezza e sostenere. Quindi vi chiediamo questo sostegno per la costruzione e per la realizzazione di questo luogo. In cambio vi offriamo un'esperienza unica che è la bellezza del villaggio di Bana. Piccolo dettaglio importantissimo. Il Burkina è un paese povero, la nostra moneta qui vale tantissimo, quindi con una piccola donazione dall'Italia qui in Burkina possiamo fare grandissime cose. Quindi il nostro invito è di farvi un regalo e iniziare a donare adesso. Vi abbraccio, vi mando un caro saluto dal villaggio di Bana. Grazie di cuore. Ciao. 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 Grazie a tutti.